Il portiere si oppone Paolo Di Bala Palla persa Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva Vince il duello fisico e fa su il pallone Harmash Scatta verso il pallone Sulla fascia, è libero Prova a verticalizzare Pallone verso l'area di rigore ma nessuno è riuscito ad arrivare Provano a ripartire da dietro Harmash sul pallone Ottima pressione la sua Palla recuperata